Un saluto ben ritrovati come state, immagino sentimenti diversi ovviamente a seconda della fede calcistica, però probabilmente oggi soltanto i tifosi del Napoli tra le big sono quelli più felici, Roma anche, chiaramente, Lazio, Atalanta, abbastanza ecco. Iscrivetevi qui sul logo L, lasciate un bel like, commentate numerosi, pazzesco, situazione pazzesca al Milan, commentiamo un'altra brutta figura. La cosa che fa specie è che vai male, vai male e vai sempre peggio, non riesci proprio a riprenderti, il Milan è in un tunnel e non riesce ad uscirne. Ieri, altra partita dal cefalogramma piatto, pensate che il Milan ha subito nove reti nelle ultime dodici partite, quello del portiere è un fattore, chiaramente, ma non è l'unico fattore. Difesa ieri schierata, ferma, loro entrano con una facilità estrema, Pioni dice manovra non male, non ha creato niente, l'unico pericolo è una punizione deviata di Ben Nasser. Milan che ha fatto 2-2 con la Roma, ha perso in casa col Torino con uno in più, ha pareggiato 2-2 con il Lecce e abbiamo visto il primo tempo. Ha perso 3-0 con l'Inter, ha perso 4-0 contro la Lazio. Nell'ultime tre partite il Milan va sotto al terzo minuto con il Lecce, al decimo con l'Inter, al quarto con la Lazio. Nell'ultime tre partite il Milan finisce tutti e tre i primi tempi sotto di due gol. Capite che è un problema di testa di una squadra che non è più squadra e Tonali dice dobbiamo ritrovare la compattezza del gruppo e fa capire che nel gruppo qualcosa purtroppo per il Milan si è rotto. È incredibile che Piolli metta ancora la formazione a parte d'est per Teo che qualche giorno prima aveva fatto una figuraccia in Supercoppa. è una squadra che non c'è, è un mister che non c'è e secondo me anche la dirigenza Maldini che dice siamo in linea con gli obiettivi, siamo nei programmi dopo una figuraccia del genere è qualcosa che non sale in cielo né in terra. Voi che analisi fate di questa partita, di questo momento più che di questa partita sinceramente io non riesco a vedere la luce fuori dal tunnel, sono molto onesto, molto sincero, è una crisi pazzesca. Poi Milan è ancora secondo sì, ma se va avanti così tra due settimane è sesto e non è che devi guardare... siccome è secondo loro non analisi la sconfitta di ieri, che non è poi l'unica sconfitta. qualcosa da studiare con... con psicologi... non lo so ragazzi, pazzesco davvero. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto, leggo i vostri commenti, scrivetevi qui e lasciate un like. Ci vediamo più tardi.